Inizia il campionato di Serie D e ci sono delle matricole terribili come quelle del latte dolce. Abbiamo ascoltato il bomber Andrea Usai. Arriviamo a un passaggio del turno di Coppa Italia che comunque fa sempre piacere, non puntavamo a quello, però fa sempre piacere vincere contro una squadra blasonata come l'Arzacchena che sicuramente punterà ai piani alti. Abbiamo dimostrato comunque di potercela giocare, comunque fa morale, adesso ci buttiamo sul campo per allenarci, pronti per domenica all'esordio, vedremo un po' di che pasta siamo fatti e dove potremo arrivare. Siamo tutti sardi, quasi tutti sassaresi e i più lontani sono di Alghero e Castelsardo. Ci sono buoni valori qua, non sempre bisogna pescare da fuori, quindi adesso sta a noi comunque cercare di raggiungere una salvezza che per noi sarebbe come una vittoria del campionato e niente, vediamo se potremo riuscirci quanto prima.